Grandi compagnie fanno affidamento sui nostri prodotti. Le aziende più rappresentative del mercato hanno riposto la loro fiducia in Tecna, garantendo l'alta qualità e l'efficienza dei nostri dispositivi. Sempre vicino al cliente. Con progetti e soluzioni alla misura delle sue necessità. Tecna, a company of Arbonia Group. Garanzia e affidabilità. Grazie.